Siamo qui in piazza Zuliano, sono qui, ospito volentieri come amministratore all'iniziativa della Uilca contro la desertificazione bancaria perché tocchiamo con mano, abbiamo toccato in questi anni con mano quello che ha poi, che sta influendo sul cittadino, in particolare cittadini fragili, persone anziane che si sono ritrovate senza lo sportello di riferimento, in questo momento a Zuliano di tre istituti bancari ne è rimasto uno che per fortuna regge e offre questo servizio con il disagio però che molte persone prima venivano qui in centro vicine alla piazza, invece oggi devono attraversare una provinciale con relativi anche pericoli difficoltà e questo è solo uno degli aspetti che mi spingono anche come amministratore, come cittadino a chiedere maggiore attenzione nei risvolti sociali di alcune scelte di ristrutturazione che devono avere la gradualità, una gradualità diversa da quello che invece in maniera abbastanza brutale è successo nel giro di pochi anni, in questi ultimi anni, per cui io mi auguro che ci sia questa attenzione e dove le forze, le varie forze, le forze produttive, la politica, i cittadini possano appunto chiedere esattamente quello che viene chiesto da questa campagna che come vedete dice chiusura delle filiali, no grazie.